Buon appetito! Il numero 5, Giamonte, domani, Delinga. Il numero 6, Giammarca, Leliccio. Il numero 7, Federico, Mussissini. Il numero 8, 5, Lelico, Paglosso. Il numero 12, Federico, Leliccio. Il numero 7, Lelico, Paglosso. Il numero 18, Gabriele, Giammariello. Il numero 20, Matteo, Paglosso. Il numero 21, Lorenzo, Paglosso. Il numero 31, Federico, Lulovski. Il numero 55, Alessandro, Cittadini. allenatore, Eugenio, Paglosso. Assistenti, Matteo, Paglosso. e quanto le dolce accendiamo il risultato pariato dai giovani Massimiliano D'Aleo Traccevich e Paniele Bonfiglioli e anche adesso sono i signori Gianluca Gagliari di Anaghi Umberto Tallonca di Colonia e Michele Certozza di Grotta Mare e l'oggettile pubblico della nuova parella lingua d'Italia Gagliari di Anaghi e signora sesina Acceso colchè當 il loro glian e in la nuova Gagliari di Anaghi Gagliari di Ego Grazie. 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 Grazie.